Assemblea strategico-programmatica, lo stabilimento Gamma di Boiano, preoccupati RSO e lavoratori che chiedono al governo frattura risposte concrete in tempi brevissimi. Con ben sei anni di ritardo è stato inaugurato il nuovo blocco operatorio dell'ospedale veneziale di Isernia. Ieri i primi cinque interventi, intanto il senatore del nuovo centrodestra Gaetano Quagliariello lancia la candidatura di Gabriele Melolli. Sensati 2 milioni per gli studenti dell'Università degli Studi del Molise, aventi diritto alla restituzione della tassa regionale, soddisfatto il governatore frattura e laureandi. A commentare il pareggio della 33esima giornata di campionato tra Folgore e Veregra e Campobasso, il dirigente sportivo Claudio Cicchi e il mister rosso-blu Massimiliano Favo, che si sono detti entusiasti della prestazione in campo dei ragazzi, ma puntano tutto sulla prossima gara. Ben ritrovati con il telegiornale di Molise TV in apertura, torniamo a parlare della più grande filiera avicola del mezzogiorno, assemblea strategico-programmatica allo stabilimento GAM di Boiano, preoccupati RSU e lavoratori che chiedono al governo Frattura risposte concrete. I dettagli nel servizio. Fortemente preoccupati i lavoratori della GAM, riunitisi in assemblea nei locali dell'azienda che continuano a sentirsi abbandonati dalla politica. A seguito dell'ultima assemblea svolta nel mese di gennaio e degli incontri tenuti in senno alla regione, nulla trapela in merito al futuro che attende i lavoratori della più grande azienda avicola del sud. Area di crisi complessa, fondi PSR, masterplan, tutti strumenti definiti dalla politica fondamentali per riavviare l'attività produttiva regionale, ma per l'RSU dell'azienda restano poco chiari e non delineano compiutamente la prospettiva dei lavoratori con l'aggravante dell'esistenza di possibili imprenditori senza che la regione abbia mai convocato un incontro specifico per fornire ulteriori elementi conoscitivi in merito. Chiediamo chiarezza e onestà nel comunicarci effettivamente cosa sta succedendo e il monito degli ex dipendenti della GAM che si aggrappano al bando predisposto dal Tribunale di Campobasso che scadrà il prossimo 14 giugno. La cassa integrazione invece terminerà a novembre. In seguito al giubileo dei lavoratori, in occasione del quale Monsignor Bregantini invitava a non perdere la speranza, gli ex dipendenti della GAM lanciano un ultimatum al governo Frattura. Ciò che si richiede sono risposte concrete sull'azienda di Monteverde di Boiano, chiusa ormai da due anni. Presidio permanente, la strategia che utilizzeranno i lavoratori se non saranno chiariti i loro dubbi in tempi brevi. Intanto i sindacati puntano sui fondi del PSR 2014-2020, una grande opportunità per la filiera avicola più grande del mezzogiorno. Nuova seduta della Quarta Commissione Consigliare della Regione Molise. Presente all'audizione il Governatore Frattura, convocato dal Presidente della Commissione, Annunzia Lattanzio. In discussione e riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, il Presidente ha illustrato la proposta di legge e ha dato un mandato alla struttura commissariale per rinvio documentazione relativa al piano operativo approvato l'8 aprile dai Ministeri, ancora oggetto di ulteriori modifiche afferenti integrazione cattolica e cardarelli. E torniamo adesso a parlare delle amministrative del capoluogo Pentro, il senatore del nuovo centrodestra Gaetano Quagliariello a Isernia per lanciare la candidatura di Gabriele Melogli, che gareggia per il terzo mandato a Palazzo San Francesco. Sentiamo. Io sono qua per un ragionamento politico. Noi abbiamo sostenuto sempre dall'inizio di questa legislatura che era necessario rinnovare il centrodestra e costruire una nuova alternativa a Renzi. Questo non si fa contro i partiti ma aggiungendo qualcosa ai partiti e aggiungendo qualcosa che possa modificare il vecchio centrodestra senza attardarsi nelle nostalgie e avendo anche il coraggio di prendere distacco da una parte del passato che non vuole cambiare. Tutte queste condizioni sono nella candidatura che noi presentiamo qui a Isernia. È una candidatura che coniuga l'esperienza e la novità, che coniuga una parte del vecchio centrodestra e una parte del nuovo centrodestra che ritiene si possa aprire una stagione nuova e che non ha chiuso la porta a nessuno ma non ha accettato diktat o padrinati da parte di nessuno. A Roma noi abbiamo candidato Marchini e Forza Italia candida la sua lista nella coalizione di Marchini. Abbiamo esattamente lo stesso schema romano. Qui c'è al limite una sola novità. Gli amici della Lega hanno deciso di stare con questo tipo di coalizione. Se lo avessero fatto a Roma non si sarebbe chiusa la porta in faccia a loro. La caratteristica di questa nuova stagione è che si va avanti senza il veto dei partiti, ma nessuna chiusura nei confronti dei partiti. Sta nascendo un polo che cerca di mettere insieme l'impegno civico e la buona politica. Io credo che questo candidato è quello che con la sua faccia, la sua esperienza e la sua storia rappresenta questa sintesi. Me ne sono andato dal governo per non stare con Renzi. Ho lasciato la maggioranza. Quando i centristi sono diventati succubi e vittime e non in grado di condizionare questo governo, francamente accusarmi di essere una stampella, porto testimoni a discolpa. Innanzitutto il Presidente del Consiglio che mi attacca ogni volta che interviene in aula. Detto questo, io credo che non c'è nulla che abbia fatto male a Renzi negli ultimi sei mesi come quello che è successo a Roma e a Milano. Perché noi abbiamo occupato in queste due città il centro del sistema politico. Quel centro che aveva saldamente conquistato Renzi. E se l'alternativa, il centrodestra vuole vincere, deve riuscire a prendere quella parte di elettorato, a prendere quella parte del territorio politico. Ed è quello che stiamo cercando di fare qui a Isernia. Anche spaccati ce la farete? Noi non siamo spaccati. Ci sono state delle scelte differenti e noi rispettiamo tutte quante le scelte. Sappiamo che le elezioni si fanno sui due turni e sappiamo che a scegliere alla fine sono i cittadini. Siamo convinti di andare al ballottaggio e al ballottaggio di vincere queste elezioni. E adesso la cronaca. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Isernia questa mattina all'alba hanno arrestato un pregiudicato sul quale pendeva un mandato di cattura per spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto accertato dai militari, lo spacciatore riforniva in prevalenza giovani acquirenti nel centro di Isernia e in altri comuni della provincia di sostanze stupefacenti di varia tipologia quali eroina, cocaina, hashish, marijuana e cobret. Tali risultanze investigative sono state raccolte dalla competente autorità giudiziaria che ha emesso un ordine di cattura nei confronti del pregiudicato, un trentenne, che i carabinieri Isernini hanno rintracciato presso un'abitazione di Montenero di Bisaccia dove risultava risiedere. E torniamo a parlare di sanità e dell'approvazione nottetempo dei piani operativi per la regione. Il consigliere di minoranza Michele Iorio ha espresso in una nota la sua opinione in merito. Sentiamo il servizio. Alla luce dei fatti che stanno accadendo in questi giorni in materia di sanità molisana, come la situazione del Santimotio di Termoli che aveva annunciato una paralisi totale per mancanza di anestesisti, scongiurata ma che ha visto la possibilità degli interventi chirurgici ridursi drasticamente. Significa che in ospedale le sale operatorie funzionano ma il numero delle operazioni che i medici possono effettuare è di molto inferiore alle necessità dei reparti. In più in settimana chiuderà il pronto soccorso di Larino che diventerà un punto di primo soccorso come già accaduto a Venafro. Era nell'aria ed era stato annunciato e confermato anche nei giorni scorsi dalla direzione sanitaria regionale. In merito a questo e a tanto altro ancora il consigliere regionale Noenke, ex presidente della regione Molise Michele Iorio, in una nota pone l'accento sulla mala gestione della situazione da parte dell'attuale governo. Reo ha suo avviso di aver abrogato la norma che costituiva l'ultimo ostacolo all'approvazione dei piani operativi di cui si sta discutendo al tavolo tecnico a Roma agendo di notte tempo e quindi tradendo evidenzia non solo l'impegno assunto da molti mesi in varie occasioni in consiglio regionale ma soprattutto i comitati che avevano richiesto un più vasto dibattito sulla riforma sanitaria per esprimere una volontà legislativa di ampio respiro che potesse costituire un freno alla deriva autoritaria di questa fase di commissariamento del settore. L'ex presidente torna poi sulla modalità dell'approvazione del maxiemendamento per dare il via libera senza condizioni al commissario Frattura. Con questa approvazione da questo momento sono resi nulli tutti i ricorsi amministrativi presentati al Tarmolise dai vari comitati. E passiamo adesso alla cronaca giudiziaria. Torniamo a parlare dell'inchiesta sindaci sporchi. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i tecnici comunali finiti nell'inchiesta Dirty Mayors. Per loro il PM ha chiesto l'interdizione dai pubblici uffici resta invece ai domiciliari il sindaco Roberto Calabrese. E restiamo a Disernia dove con ben sei anni di ritardo è stato inaugurato il nuovo blocco operatorio dell'ospedale veneziale. Ieri i primi cinque interventi. Il servizio. All'ospedale veneziale entra in funzione il nuovo blocco operatorio moderno ed efficiente completamente attrezzato per interventi di chirurgia generale, ostetricia, senologia, ortopedia e oculistica. Terminati lavori di sistemazione per avviare quello che era stato bloccato nel 2010 per una banalità progettuale. Infatti la modernissima sala operatoria non è mai entrata in funzione per l'ascensore troppo piccolo in cui non entrava la lettiga con i pazienti da trasportare in altri reparti ai piani superiori. Errore madornale che ha costretto i sanitari a posticipare di ben sei lunghi anni l'inaugurazione del reparto collegato con la rianimazione che renderà più efficienti e sicuri gli interventi. Il comparto garantirà più sicurezza per gli utenti e più funzionalità per i medici e gli altri operatori sanitari. Già da ieri i primi cinque interventi nel nuovo blocco operatorio. Questa è la dimostrazione che il veneziale non chiuderà il commento del governatore Paolo Di Laura Frattura. Restiamo in tema crisi del settore sanitario. Ieri ha chiuso definitivamente il reparto di oculistica dell'ospedale Vietri di Larino, una delle eccellenze sanitarie della nostra regione che negli anni ha ricevuto diversi riconoscimenti come quello sulla qualità dei servizi offerti ai pazienti che quest'anno si è aggiudicato per il terzo anno consecutivo. Il reparto di oculistica è stato diretto dal noto primario Ermanno Dell'Omo che attualmente esercita presso la clinica Villa Maria di Campobasso e conosciuto anche a livello nazionale. Continuiamo a parlare di sanità. Grande evento quello che è previsto per il prossimo giovedì 5 maggio in piazza Municipio a Campobasso a partire dalle ore 17 in cui le ostetriche del collegio interprovinciale del capoluogo di Regione e di Isernia saranno a disposizione di tutte le donne della comunità molisana con diverse attività. Scopo dell'evento di carattere nazionale è quello di sensibilizzare l'utenza alla figura professionale dell'ostretica ospedaliera territoriale e libero professionista. E voltiamo pagina. Stanziati 2 milioni per gli studenti dell'Università degli Studi aventi diritto alla restituzione della tassa regionale. Soddisfatto il Presidente della Regione Molise, Paolo Frattura. Sentiamo. Un tassello importante per una lunga serie di miglioramenti che da anni la popolazione studentesca attendeva. Questo è il frutto dell'incontro svoltosi tra una delegazione di studenti dell'Università degli Studi del Molise e il Presidente della Regione Molise, Paolo Di Laura Frattura. Le studenti hanno spiegato le ragioni della petizione presentata pochi giorni prima e corredata di circa mille firme di studenti riguardante la richiesta di rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Infatti, gli studenti ogni anno pagano 140 euro alla Regione che è tenuta a restituirli alle aventi diritto, ovvero all'idone e alla borsa di studio. Questo rimborso non avveniva da ben cinque anni. In poco tempo la Regione è intervenuta infatti in Consiglio regionale. Il Presidente ha relazionato sulla questione proposto e approvato lo stanziamento delle somme dovute per il rimborso della tassa dal 2010 al 2016 per un totale di 556.290 euro. Qui bisogna aggiungere la quota per il 2016. In totale sono stati stanziati circa 2 milioni di euro per il diritto allo studio. Con l'approvazione del bilancio di previsione 2016 abbiamo provveduto a sanare una situazione non nuova ma risalente nel tempo e derivante dai mancanti stanziamenti nei dovuti capitoli. Ha commentato così il Presidente il rimborso non effettuato dall'ESU, l'ente preposto dal 2010. Siamo fiduciose, ha dichiarato invece Candido Paglione, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ente per il diritto allo studio del Molise, che il lavoro di attenzione iniziato con l'approvazione della nuova legge regionale possa proseguire con la stessa determinazione che abbiamo registrato con la recente approvazione del bilancio di previsione della Regione e che si arrivi al più presto alla piena operatività della Borsa Servizi, così come disegnata appunto dalla nuova legge. Un selfie fa da cornice al traguardo raggiunto dagli studenti che hanno dichiarato così di aver ottenuto giustizia. Il Presidente del Consorzio di Bonifica di Termoli, Giorgio Manes, con la presenza dei sindaci di Guglionesi e San Giacomo degli Schiavoni e il Presidente della Cor di Letti Molise, Tommaso Gian Giacomo, i coltivatori della zona hanno inaugurato l'impianto irriguo di soccorso che consentirà di irrigare circa 200 ettari di terreno che non erano ancora serviti dalla rete irrigua. Il Presidente della Col di Retti Molise, Tommaso Gian Giacomo, ha sottolineato come la moderna agricoltura non può fare a meno di un efficace sistema di irrigazione che renda i terreni più produttivi e le aziende agricole più competitive. E adesso torniamo a parlare della situazione in cui versano le attività commerciali del Centro Storico di Campobasso, stavolta attraverso una lettera di denuncia di un commerciante dello stesso Centro Storico. Sentiamo. Tante le denunce pervenute nell'ultimo periodo relative alla gestione delle attività commerciali nel Centro Storico. A tornare sull'argomento, un commerciante che aveva già espresso la sua preoccupazione in merito. Già mesi fa ero intervenuto a nome dei commercianti del Centro Storico, si legge nella lettera da lui inviata, per denunciare l'assoluto abbandono da parte della maggioranza di Palazzo San Giorgio per quanto riguarda l'area del Centro Storico e della zona murattiana più in generale. Sono passati mesi, alcuni di noi si sono più volte recati in comune per parlare con assessori e sindaco e per chiedere immediati provvedimenti tra cui la realizzazione del progetto Ariston. Ma come sempre accade a Campobasso, nulla è cambiato. Anzi, la risposta è stata che si era praticamente pronti ad acquistare la struttura in collaborazione con la regione, come dichiarato dall'assessore Chierchia e dal sindaco Battista. Dopo circa un anno, né si è acquistata la struttura come promesso, né si è lasciata la possibilità alla proprietà di procedere con il progetto di riqualificazione dell'intera area a ridosso di via Cardarelli, via Isernia e via Larino. Riteniamo, sottolinea il commerciante, questo lassismo scandaloso, con una differenza sostanziale però, che l'Ariston sta cadendo a pezzi. Si chiede nella lettera la possibilità al privato di creare sviluppo e lavoro o se ci sono realmente le condizioni economiche e la volontà di farlo, che si acquisti la struttura e la si rimetta a norma per essere fruita. Il commercio nella zona del centro storico è già morto, ponendo nuovamente l'accento sulle pericolose condizioni del cinema. Nelle scorse settimane il sindaco Battista ha dichiarato che per quanto riguarda la sicurezza in materia sismica per strutture pubbliche o comunque ad uso pubblico, non conviene ristrutturarle per renderle sicure e a norma. In conclusione, se realmente ci sono i presupposti economici e finanziari e la volontà politica per rilevare l'Ariston, che lo si faccia una volta per tutte, altrimenti si dia spazio ai privati affinché i commercianti possano continuare a svolgere il proprio lavoro in sicurezza e con prospettive di sviluppo futuro. Si è riunita la consulta regionale per la caccia presieduta dal consigliere delegato e capogruppo del Molise di tutti, Cristiano Di Pietro, alla presenza della struttura e delle parti interessate. Dopo un intenso e lungo confronto concluso con la consulta, si è arrivati alla stesura di un calendario venatorio e soprattutto nel segno del rispetto delle normative. Un risultato importante che la nostra regione attende da decenni e che finalmente restituisce dignità a questo settore con un calendario che nello specifico prevede l'apertura della caccia dal 1 settembre al 31 gennaio e l'addestramento cani dal 15 agosto, previste al contempo pre-aperture per varie specie sempre secondo quanto stabilito dalle normative vigenti. Voltiamo pagina, parliamo di cultura e turismo. Le iniziative previste dall'Associazione Memo Cantieri Culturali coincidono con l'iniziativa lanciata dal Ministero per i beni culturali di domenica al Museo. Quello di domenica non è stato il solito primo maggio che ha omaggiato il mondo del lavoro e i suoi protagonisti, ma è stata una giornata dedicata alla cultura, visto che il Cipe, riunito dal Premier Matteo Renzi, anche se era una giornata di festa, ha stanziato numerose risorse, tra cui alcune riservate alle isole Tremiti, anche se queste ricadono sotto l'egita della vicina Puglia. Per i molisani quella del primo maggio è stata una giornata ricca di eventi, infatti i cittadini hanno potuto scegliere tra diverse e interessanti iniziative messe in campo proprio per l'occasione. A dare l'avvio alla giornata, l'apertura di musei, monumenti e aree archeologiche presenti sul territorio, le cui visite guidate, gratuite a cura dell'Associazione Memo Cantieri Culturali, sono coincise con l'iniziativa lanciata dal Ministero per i beni culturali, domenica al Museo, che ha previsto l'accesso in tutti i musei e aree archeologiche statali. Nel Molise a restare aperti il Castello di Capua di Gambatesa, quello di Civita Campomarano, il Museo archeologico di Menafro, il Paleolitico di Sernia e Palazzo Pistilli di Campobasso. Porte aperte anche al Circolo Sannitico, con il concerto del Coro dell'Università, che ha fatto da sparring alla mostra relativa alle opere degli allievi di Piero Romagnoli, che ha creato nello Studio Blu uno spazio pensato per la trasmissione pragmatica del sapere intorno all'arte, a cominciare dal realismo per finire al simbolismo passando per il figurativo e al surreale. La carrellata culturale si è conclusa presso la Fondazione Molise Cultura, nei cui spazi si è animata Flaneur, il progetto di residenza per artisti che nasce dal più noto Vis-a-vis Artists in Residence Project, il programma ideato dall'Associazione Culturale Limiti Inchiusi Arte Campobasso. Per questa prima edizione il progetto ha previsto e ha selezionato un artista internazionale, il giapponese Satoshi Rose, che risiederà nel capoluogo di Regione fino al 23 maggio. Il maestro nipponico di fama mondiale avrà a disposizione uno spazio per tutta la durata del progetto culturale da utilizzare come studio in cui approfondirà la storia, gli usi e i costumi del Molise per realizzare un'opera d'arte ispirata proprio alla ventesima regione dello stivale. L'opera ideata e realizzata dall'artista nipponico resterà di proprietà della Fondazione Molise Cultura ed entrerà a far parte del patrimonio del Sodalizio Campobassano, trovando la sua collocazione all'interno degli spazi del Palazzo dell'Ex-Gil, da sempre location ideale per la cultura, quella con la C maiuscola. Diversamente moda questo, il nome dell'evento organizzato dall'Associazione Talenti e Artisti Molisani in programma per il prossimo 5 maggio al Palazzetto dello Sport di Contrada Selvapiana a Campobasso, un defile di moda delle conduttrici tv locali a cui siamo state tutte chiamate a partecipare. L'intero incasso della serata sarà interamente utilizzato per l'acquisto di un defibrillatore in favore dell'istituto scolastico Dovidio di Campobasso. Durante la serata benefica anche l'esibizione di cantanti, musicisti e ballerini tutti i talenti molisani tra cui ricordiamo Alessandra Parente e Antonello Carozza. I biglietti sono disponibili al Macron Store di Via Mazzini, Total Look, Via Trieste e Settembrini Caffè a Piazza Cuoco a Campobasso. E adesso invece apriamo la nostra pagina sportiva. In apertura il calcio di serie di Girone F. A commentare il pareggio della 33esima giornata di campionato tra Folgore, Veregra e Campobasso, il dirigente sportivo Claudio Cicchi e il mister rosso blu Massimiliano Favo che si sono detti entusiasti della prestazione in campo dei ragazzi ma puntano tutto sulla prossima gara. Sentiamo. 1 a 1 il risultato della 33esima giornata di campionato tra Folgore, Veregra e Campobasso. Il dirigente sportivo della squadra marchigiana Claudio Cicchi si è complimentato con i giocatori per la prestazione avuta in campo, sottolineando che la gara non era senz'altro facile considerando che la Folgore è una squadra che gioca per la salvezza. Innanzitutto devo fare i complimenti alla squadra che si è comportata egregiamente contro un avversario che sicuramente è tra i più forti del campionato. Il punto certo ci lascia un po' da mare in bocca perché in campo abbiamo dato tutto e forse avremmo meritato anche qualcosa di più. Però voglio dire è un punto che ci lascia ben sperare. Domenica sappiamo che ci giochiamo l'intero campionato, la squadra è conscia dell'importanza della gara e sicuramente sono convinto che faremo una grande prestazione contro una squadra che come noi si gioca la salvezza. Per noi andare ai play-out a questo punto è la cosa più importante. Sono convinto che ci riusciremo. Punta la prossima gara con il Castelfilardo così la Folgore, Veregra e lo stesso fa il campo basso di mister Massimiliano Favo. Per il trainer rosso-blu il campo marchigiano e il cattivo tempo non sono stati favorevoli alla vittoria della squadra. Ora tutto in ballo nel match molisano con l'Isernia. Noi questo campo ci ha sicuramente penalizzato perché amiamo giocare a calcio e probabilmente questo campo se doveva favorire una delle due squadre ha favorito la Folgore. Però sapevamo che era una partita difficile quando si lotta per la sopravvivenza si sa che sono partite un po' delicate. Noi veniamo da tantissimi risultati, abbiamo ripreso la partita, potevamo fare con il primo tempo sul Conaquino e sicuramente è stata una partita condizionata assolutamente sia dal terreno che dall'ambiente, dalla pioggia. Quindi mi sarebbe piaciuto farla con condizioni climatiche diverse. Continuiamo con il calcio di Serie D. Parliamo della gara tra Re Canatese e Fermana, terminata 0-1 per la squadra giallo-blu. Il servizio. Traunaca si gioca davanti a 700 spettatori con larghissima rappresentanza ospite. Non ci sono tatticismi esasperati d'altronde vista la classifica, la Re Canatese in qualche modo obbligata a fare la gara. Mariani sembra subito tra i più attivi e conclude una sua bella iniziativa personale con un tiro che costringe Olchak a rifugiarsi in angolo. Il tridente offensivo Leopardiano sembra ispirato, traversone di Angelili sul quale Murano arriva con un attimo di ritardo. Al nono primo assaggio delle qualità balistiche di Degano con Verdicchio a cavarsela in qualche modo. A centrocampo si fa notare per il suo attivismo e la consueta generosità il 97 della Re Canatese Gallo che offre un bell'assist a Murano che tenta la conclusione sul primo palo con Olchak reattivo a deviare in corner. Il match è piacevole e la pioggia non disturba più di tanto, ventiquattresimo rassoiata su punizione di Degano, Falco ribatta la bella e meglio ma è un assist d'oro per Valdesca e sciupa tutto sparando altissimo da posizione invidiabile. Rovesciamento di fronte d'angolo per la Re Canatese, va la battuta Cianni, Olchak conferma le perplessità che suscita fuori dai pali ma la spizzata di Miani è buon per la fermana imprecisa. È il momento migliore della Re Canatese punizione di Cianni che genera una mischia, la palla in qualche modo arriva a Falco ma conclusione debolissima che non crea problemi. Al 42esimo il gol decisivo, Degano conferma al Tubaldi le sue attitudini, l'anno scorso una sua rabona ispirò la rete di Pintori con la maglia della Civitanovese quest'anno sigla la rete che vale i playoff, un tiro che come si suol dire vale il prezzo del biglietto. Ripresa decisamente più bloccata al zesto c'è una punizione di Cianni per fallo al limite dell'area su Murano, il tiro si infila nella barriera ma Olchak in qualche modo se la cava. Veloce contropiede della fermana e Verdicchio riesce a neutralizzare un tiro di Valdes, poi la Re Canatese sbatte sul muro eretto dai canarini sulla trequarti e le occasioni davvero latitano. Entrano Di Federico e Peronullo da una parte, Agostinelli e Pasquini dall'altra. Valdes da un metro non sfrutta un'occasione più unica che rara, poi in pieno recupero Olchak devia in angolo, una conclusione di testa di Murano su traversone di Angelilli. Fine dei giochi, la fermana festeggia e la Re Canatese guadagna comunque l'applauso dei suoi tifosi. Già i tifosi, quelli più caldi, ancora fuori dallo stadio. Termina una stagione comunque ampiamente positiva perché non bisogna mai dimenticare come era ammessa questa squadra a novembre. Tuttavia Antonio Mecomonaco negli spogliatoi esprime l'amarezza per il match decisivo, giocato, almeno a livello di tifo, davvero in trasferta. Il 27enne Isernino Luca Corrado, dopo aver vinto diverse gare di culturismo sul territorio nazionale, si è classificato secondo all'Udus Maximum Bodybuilding il 13 dicembre 2015 al Palacavicchi di Roma, gara valevole per la selezione della squadra nazionale azzurri, categoria a medio-massimi per i campionati europei. Gli europei della Federazione Italiana di Bodybuilding si terranno a Santa Susanna in Spagna da domani mercoledì 4 maggio a domenica 8 maggio. E questa era l'ultima notizia, grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV, vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale, augurandovi un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Il meteo è offerto da Da Gran Risparmio scoprirai la qualità e la freschezza dei prodotti scelti con cura per te. Inoltre troverai l'esclusiva, i detersivi alla spina, ecologici e convenienti. Da Gran Risparmio risparmi tu e risparmi all'ambiente. A Corso Bucci 54 a Campobasso. Previsioni del tempo per mercoledì 4 maggio. Persiste un flusso di correnti fresche e moderatamente instabili dei Balcani verso le nostre regioni sudorientali. Ne conseguono ancora generali condizioni di variabilità tra Molise, Basilicate e Puglia, interessati da nuvolamenti sparsi e rischio di qualche locale rovescio. Tendenza a miglioramento entro la serata. Vediamo le temperature previste nei maggiori centri molisani. Campobasso minima 7, massima 14 gradi. Isernia minima 10, massima 15 gradi. Termoli minima 14, massima 16 gradi. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei. Acconsegni assegni spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.